Ci troviamo a Villa Severi, lo spuntino di quest'oggi è dedicato alla realtà che vedete alle mie spalle, mi trovo di fronte alla sede del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. Quest'oggi parleremo del corso dedicato a studenti stranieri, un corso di educazione stradale, ma è solo una delle tante attività che vengono promosse. Ne abbiamo parlato in prima battuta con il dirigente scolastico Carla Pisanelli. Obiettivo finale del progetto, agevolare il conseguimento della patente di guida. I destinatari sono studenti stranieri dei corsi di italiano validi per ottenere la certificazione A2 o di livello superiore. Un percorso realizzato in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Polizia Municipale. Il corso sta andando molto bene, gli studenti partecipanti sono numerosissimi. Le lezioni vengono tenute dall'assistente scelto della Polizia Municipale, dottoressa Sonia Ghezzi, che svolge tale attività in modalità fisico-telematica. Avvalendoci della piattaforma Microsoft Teams, cui siamo accreditati, si svolgono appunto le lezioni, per cui ci sono degli studenti collegati in presenza all'interno delle nostre aule e altri invece che lo seguono online. Numerosissime sono le partecipazioni online. Qui in sede abbiamo due aule in cui sono presenti gli studenti e appunto gli altri, una trentina in presenza e una cinquantina che si collegano online. Questo corso ha una finalità importante anche per quanto riguarda l'integrazione e un coinvolgimento sempre maggiore, soprattutto per quanto riguarda persone di nazionalità differenti, ma anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. Certo, la finalità è proprio quella di educazione alla cittadinanza attiva e quindi si inserisce in un quadro di educazione in tal senso, educazione alla legalità e comprensione della segnaletica stradale, che molto spesso non è così scontata per gli stranieri presenti sul territorio. C'è stata anche un'operazione di semplificazione, se così si può dire, di quelli che sono anche i termini utilizzati normalmente da chi poi si appresta ad ottenere la patente di guida anche per renderli più comprensibili, soprattutto considerando che molto spesso c'è la complicazione della lingua. Certo, certo. Si tiene conto proprio del fatto che l'utenza è prevalentemente di nazionalità non italiana e quindi le modalità di erogazione del servizio e dell'attività didattica è notevolmente semplificata. C'è stata una collaborazione anche con il Comune di Arezzo per questa iniziativa? Certo, ci avvaliamo appunto di queste forme di collaborazione integrata che ci permettono di arricchire la nostra offerta formativa e dare un quid pluris al territorio. Queste collaborazioni sono partite sia con il Comune di Arezzo, che ha promosso questa nostra iniziativa, sia con il Comando di Polizia Municipale. Ovviamente a dare il lancio a questa collaborazione è stata una nostra docente che ha appunto fatto parte della Polizia Municipale. Le lezioni per quanto dureranno? Poi quale sarà la conclusione di questo corso? Allora, questo corso preparatorio ad un percorso di educazione stradale ha la durata di 10 ore. In realtà si prevede, viste le numerosissime richieste, una ripetizione del corso durante l'estate, probabilmente inserendola nel piano scuola-estate che prevede la realizzazione di percorsi anche in estate. Lei ha parlato di offerta formativa. Ecco, entriamo nel dettaglio perché ovviamente questo corso del quale abbiamo parlato in apertura della nostra intervista è solo una delle tante attività proposte. La nostra scuola è una scuola pubblica a tutti gli effetti. Quindi molto spesso si intende come un'associazione, come un centro culturale. In realtà non è questo. È una scuola pubblica a tutti gli effetti e come tale la finalità è quella di erogare un servizio di istruzione nei confronti degli adulti. Adesso stiamo cercando di comprendere quelle che sono esattamente le esigenze degli adulti del territorio e rispondere alle loro esigenze. Sulla base di questo stanno partendo una serie di iniziative culturali che possono interessare gli adulti del territorio retino. Ad esempio è stato fatto un convegno avente ad oggetto l'uso consapevole di internet in cui ha partecipato il comandante dei carabinieri di Bibbiena e inoltre dei giornalisti che hanno parlato di fake news e si è parlato anche di frodi bancarie con la presenza di un direttore di banca. Poi si elaborerà anche un altro convegno avente ad oggetto la tematica di Dante. Inoltre nella sede di Sansepolcro una nostra docente ha promosso in collaborazione con l'archivio diaristico di Pieve de Santo Stefano un percorso in cui gli studenti sono stati formati per la produzione di diari che poi parteciperanno ad un concorso nazionale. Inoltre noi svolgiamo anche i corsi per conseguire la licenza media oppure l'obbligo scolastico. Abbiamo parlato delle attività dell'offerta formativa, c'è un importante appuntamento in calendario per il prossimo 22 di maggio, è così? Sì, allora sì, ci tengo a dire che questo progetto che sarà presentato il 22 maggio riguarda l'alimentazione, la corretta alimentazione. Quindi interverranno grandi personaggi, comunque esperti di questo progetto presentato da me, che sono una docente di L2, praticamente mi occupo dell'alfabetizzazione degli studenti. C'è il professor Monnanni quindi che introdurrà l'argomento sulla qualità della vita. Poi c'è la dottoressa Viola Mondanelli, biologa nutrizionista, che si occuperà quindi della dieta mediterranea e che è stata riconosciuta come patrimonio dall'UNESCO. E poi c'è la banca etica e quindi su questo argomento, su questa tematica, interverrà quindi anche il direttore dell'Ubibanca, che ci chiarisce un attimo che magari non tutti sono a conoscenza dell'esistenza della banca etica, che riguarda il microprestito, lo sviluppo sostenibile, in modo da dare la possibilità a tutti i cittadini, ma non solo ovviamente perché questo progetto si prefigge di portare a conoscenza quindi non solo dei frequentanti, degli apprendenti, degli utenti che frequentano il centro di istruzione per gli adulti stranieri, ma si rivolge a tutti i cittadini. Quindi l'evento sarà organizzato in questa sede presso Villa Severi e sarà presentato da me perché sono io la propostice di questo progetto. Non è il solo progetto in cantiere, quello di cui abbiamo parlato? Questi progetti che comunque partiranno, già sono stati approvati in sede di collegio e partiranno quest'estate. Io personalmente ho presentato tre progetti, uno riguarda l'italiano per il lavoro, quindi questo si rivolge soprattutto agli utenti frequentanti del centro provinciale di istruzione per adulti perché acquisiscano la competenza della lingua italiana che sappiamo che comunque aprirà poi il mondo al settore lavorativo. L'altro progetto è l'educazione alla cittadinanza che è già stato anticipato magari come convegno, sempre presentato da me, perché tutti acquisiscano poi la consapevolezza dell'uso di internet e che tutti si rendano conto per cui è rivolto a tutti gli utenti, quindi non solo i frequentanti del CPA, perché bisogna rendersi conto delle problematiche e dell'uso corretto della rete. L'altro progetto è l'agenda 2030, lo sviluppo sostenibile, i 17 obiettivi che sono previsti abbattere la povertà, conferire e dare la possibilità di diritto allo studio a tutti e quindi noi ci occuperemo proprio di questo, in modo che tutti abbiano questa possibilità di frequentare la scuola e di seguire questo percorso che non è solo formativo ma anche informativo per arrivare poi al successo scolastico.